Allora siamo qui con Vincenzo Vento del Roselle, una vittoria importante, due a uno molto sofferta, vincono tutte le altre, Seravezza e Piombino proprio nei minuti finale, ci si attende quindi un finale di campionato veramente molto acceso? Sì, non era facile oggi, un campo difficile dove loro la mettano sulla guerriglia calcistica, quindi non è stato facile, l'abbiamo sbloccata, poi siamo rimasti in dieci, siamo andati sul 2-0, poi finita 2-1 ma insomma non è stata una partita facile. 270 minuti alla fine del campionato, c'è da guardare sia avanti al Seravezza ma soprattutto guardarsi anche dalle spalle, c'è un atletico come Piombino che sta venendo veramente forte. Sì, Piombino non molla un centimetro e anche oggi ha vinto 2-1, è una squadra forte, noi ci proviamo e affrontiamo le partite sempre al top, cerchiamo di portarla in fondo, poi se Seravezza le vince da qui fino alla fine, si farà l'applauso, nel senso è una squadra forte, costruita per vincere, quindi vediamo, dai. Grazie a tutti.